Oh signore, che disastro. Usciamo ragazzi, forza, fuori, tutti quanti. È chiaro che in queste condizioni non è facile capirlo, ma le sembra che manchi qualcosa? No. Qualcuno li avrà disturbati. La porta d'ingresso era chiusa. Già, sono entrati dal retro. Ho il sospetto che sia mio marito a fare tutto questo. Prima la macchina e ora... Purtroppo bisogna coglierlo sul fatto. Vede, non possiamo arrestarlo sulla base di un sospetto. Crede che io sia pazza? No, ci sono quelli che riducono a brandelli i vestiti delle mogli per non farli uscire di casa. O quelli che rubano i mobili. Insomma, ne capitano di tutti i colori. E non si può fare niente? Prendere un cane da guardia. Già. Buonanotte, mamma. Dormite. Ti voglio bene. Anch'io. Vai, manca! Pronto? Pronto? Ciao, bambina. Non è tutto bene? No, e tu lo sai. Ti sento un po' stressata. Stressata? Sì, sono stressata. Mi hai rubato la macchina e sfasciato l'appartamento. Sei in un brutto quartiere. Non mi prendere in giro, Bill. Bambina, non succederebbe se io fossi lì, lo sai. Il tuo aiuto non mi serve. Senti, farò istanza di divorzio. Sta lontano da me e io giuro che stavolta ti faccio arrestare. Allora avrai la metà di tutto. Solo che la metà di niente è niente. Come sarebbe? Non dividete la casa? Bill ha smesso di pagare il mutuo e la banca se la riprenderà. Che figlio di puttana.